Sì, è meglio, io sono un po' più protetto, non ho bisogno. Sì, è che ti trovo un po' di nilla. Ok, biletta. Sì, lo dovevamo mettere un po' più. Sì, è proprio... Sì, è proprio... Sì, è quasi finito. Sì, è quasi finito. La vita è un meccanismo. Sì, è così. Sì, è la... Sì, è la faccina, è la scicchia. Sì, è la scicchia. Sì, è la scicchia. Sì, è 3D, questo è 3D appunto. Un braccio, non è una setta? Scusa. Sì, sì, però... Cioè... Mi lega... Sì, mi cosa qua, sto molto scomoda. Mi fa male qua. Ma devi fare le foto, se no ti lasciamo queste. No, io voglio fare... Vabbè, sono... Sì, sono quasi pronti, quasi pronti. Sì, fai in tv. Che ti sei lasciando? Come fai a te? Che rendo... Come hai fatto prima, ma non devi sbattere i gommi. Perché non ce la faccio. No, no, è stretta. Una sola girata... No, no, no. 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 Costanza! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una donna maori. No, 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 no. Dovevo fare l'acca prima. Una donna maori? Qual è la danza maori? No, 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 no. Ha più una doccia fredda questa qua che una danza maori. ha più una doccia. Non è vero. Ma che provi? Non provi. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dai, giro. Va bene. Vabbè, vabbè. Va bene, ragazzi trezzate una cosa che... Dai, trovi! Dai, trovi! Bruno, hai fatto prima. Tu non c'è il te lo... Giriamo. Va bene, allora decidiamo... Ragazzi, sai qual è il problema? Che l'operatore non sa che f...